Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Parliamo di After Effects, questo è un corso introduttivo ad After Effects Parleremo oggi, inizieremo a parlare oggi di questo fantastico software Lo faremo parlando dei progetti, che cosa sono i progetti in After Effects Come si creano, come si aprono, come si salvano E come si creano dei template da poter utilizzare più volte per risparmiare tempo Vi ricordo però prima www.fabioambrosi.it Sito dove troverete gli articoli a questi tutorial Troverete l'elenco e l'indice delle lezioni che svolgeremo da qui fino ai prossimi mesi Per quanto riguarda After Effects Ma non solo, troverete anche il corso introduttivo ad Adobe Premiere Se ve lo siete persi, andate e recuperatelo Iscrivetevi a questo canale YouTube se vi fa piacere E cercatemi su Facebook, sono Fabio Ambrosi Cercate la mia pagina, seguitemi E lì troverete tutti gli aggiornamenti e tutte le informazioni anche sui nuovi video tutorial Ma vediamo a noi, apriamo After Effects e iniziamo a lavorare Appena aprite After Effects per la prima volta vi trovate di fronte a questa schermata È la classica schermata di benvenuto E come un po' in tutti i programmi Adobe possiamo già fare alcune cosine qui Possiamo aprire i progetti creati e aperti di recente Possiamo aprire un progetto direttamente scegliendolo dal nostro harddisk Possiamo creare un nuovo progetto e possiamo anche accedere ad esempi e a tutorial creati ad Adobe Per muovere i primi passi con After Effects Come creare un progetto? Bene, la buona notizia è che in After Effects non c'è bisogno di inizializzare un progetto Mentre in Premiere abbiamo visto come quando creiamo un nuovo progetto Dobbiamo dare alcune informazioni tipo la posizione sul nostro harddisk Tipo il nome del progetto che vogliamo creare In After Effects in teoria possiamo lavorare già così Senza creare nessun progetto È molto più snello, molto più veloce Allora cosa serve creare un progetto? Bene, i progetti in After Effects vengono creati quando salviamo Ovviamente è un po' come Photoshop, possiamo lavorare in Photoshop e fare quello che vogliamo E quando poi abbiamo finito di lavorare dobbiamo salvare il nostro progetto Per poterci eventualmente continuare a lavorare in un secondo momento O per condividerlo con i nostri collaboratori eccetera eccetera Bene, in quel caso noi salviamo il progetto Ma allora cos'è un progetto After Effects? Bene, ve lo faccio vedere subito Un progetto After Effects non è altro che un file Punto, fine Non c'è altro da dire È un file con estensione A e P Ok? Se vedete nel vostro computer un file con estensione A e P È probabilmente un progetto After Effects E questo file contiene al suo interno tutte le informazioni Sui media che avete utilizzato Sugli effetti che avete applicato Sui livelli che avete aggiunto eccetera eccetera Non solo Ci sono due tipi di progetti di After Effects Progetti binari e progetti XML Lo dico a titolo di completezza Dicendo anche che probabilmente non dovrete mai aprire un progetto Così come vi sto per far vedere Ma sappiate che i file A e P sono progetti binari Ovvero sono progetti che possono essere aperti solo dentro After Effects Ci sono poi progetti con estensione A e P X Che in realtà sono sempre progetti After Effects Quindi che possono essere aperti anche in After Effects Ma possono anche essere aperti con un editor di testo E questo è il contenuto del progetto A e P X Che stavamo visualizzando prima sull'hard disk E non è altro che un XML con tutte le informazioni del nostro progetto Quindi chi lavora in maniera molto avanzata in After Effects Teoricamente può creare uno script che vada a modificare un progetto E fare cose anche senza aprire After Effects Esistono poi altri file Sempre progetto After Effects Con estensione A e T Dove la T sta per template Quindi quando trovate un file che termina in A e T Sappiate che è sempre un progetto After Effects Ma è un progetto modello Non perché si comporta bene È un progetto che però può aiutarci a velocizzare molto il nostro lavoro Lo vedremo tra un secondo Come aprire un progetto? L'abbiamo già visto Possiamo andare nella pagina iniziale E scegliere uno degli ultimi progetti aperti Possiamo cliccare sul bottone apri progetti Apri progetto per aprire un nuovo progetto Oppure potete navigare sul vostro hard disk Scegliere il progetto che volete aprire Fare doppio clic e voilà Automaticamente viene aperto il progetto in After Effects In questo caso no Eccolo qua In questo caso sì Un po' di pazienza ci vuole E abbiamo aperto un progetto After Effects Come si salva? Come in tutti i software Specie software Adobe Per salvare un progetto Basta andare nel menu file Salva con nome E chiaramente puoi scegliere il tipo di progetto che si vuole salvare Vedete l'XML di cui stavamo parlando prima Esistono anche opzioni per essere retrocompatibili Con versioni più datate di After Effects Oppure cliccate semplicemente con salva con nome Date un nome al vostro progetto E cliccate su salva Questo è il modo migliore per salvare un progetto Ovviamente i tasti di scelta rapida Nemmeno ve lo devo dire Sono importantissimi E' sempre molto comodo da utilizzare Nel prossimo video tutorial Vedremo velocemente che cosa sono i progetti template E in che modo possono farci risparmiare del tempo Ricordo www.fabbiambrosi.it Sito dove troverete l'elenco e l'indice di questo corso introduttivo ad After Effects Oltre a tutorial dedicati ad Adobe Premiere e a molto altro Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video E cercatemi su Facebook Cercate la pagina Fabio Ambrosi Lì vi darò tante novità a mano a mano che arriveranno Grazie mille, al prossimo tutorial, ciao!